Proteggere è un termine ideale per il sistema Robocubo. In questo sistema che vedete qui c'è un mondo magico, il mondo magico delle confetture. Vedrete come protegge il colore e tutto quello che è il gusto e i valori nutrizionali. Seguiteci! Pochi ingredienti e un sistema innovativo. Colore, sapore, natura!